Viene l'ora ed è questa. Oggi festeggiamo la dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano che è nota per essere la madre di tutte le chiese del mondo perché risale a pochi anni dopo la fine delle persecuzioni nell'impero romano contro la chiesa e le parole che abbiamo ascoltato sono tratte dal dialogo di Gesù con la Samaritana la quale sta facendo delle domande un po' pignole al Signore per chiedergli in che luogo si deve venerare e adorare il Signore e Gesù invece rompe un po' lo schema dicendo che non si tratta più di un luogo ma che si tratta di un modo di adorare si tratta di adorare Dio in spirito e verità. Il punto non è il luogo dice il Signore e il punto non è neanche il tempo preciso e noi spesso invece abbiamo un atteggiamento un po' pignolo per quanto riguarda Dio come se lui stesse a guardare il capello all'attenzione minuscola alle cose come fosse appunto meticoloso e pignolo. Invece noi abbiamo tutti una certa insoddisfazione inquietudine che ci porta a non stare bene lì dove siamo e a cercare un altro luogo o sentirci in ritardo inadeguati fuori tempo. Il piccolo principe ha un bellissimo incontro con un capo stazione e gli fa una domanda perché vede questi treni che sfrecciano questi viaggiatori un po' appunto inquieti e dice ma non stavano bene dove stavano prima? E il capo stazione gli dice, gli risponde non si è mai contenti dove si sta. Ecco in un certo senso è proprio così, non siamo contenti e Gesù risponde dicendo viene l'ora ed è questa, cioè qui e adesso è il momento buono. L'ora di Gesù è un tema teologico di grandissima profondità. Vorrei adesso soffermarmi soltanto su un aspetto, nell'aspettativa enorme, nell'attesa che c'era accanto a Gesù dell'ora, cioè l'ora del Messia, l'ora della redenzione, l'ora della liberazione finalmente del popolo, di Dio, ecco io in qualche modo vorrei anch'io delle certezze, delle sicurezze, vorrei la certezza che questo è il momento buono e che così posso risolvere tutto. Viceversa Gesù dice che questo, cioè che la fede non è una specie di bacchetta magica che cambia le circostanze, la fede è l'incontro con Gesù che fa diventare ogni tempo il tempo opportuno. È quello che si vede in un modo esplicito nel primo segno di Gesù quando a Cana Maria, la madre di Gesù, gli dice guarda che non hanno più vino e lui risponde dicendo non è ancora giunta la mia ora. Ecco però poi Maria dice agli altri qualunque cosa vi dica fatela e avviene il miracolo. Allora cosa voleva dire? Gesù mica ha ingannato Maria, è vero che non è raggiunta la sua ora, l'ora di Gesù giunge nel momento in cui qualsiasi cosa mi dice io la prendo come un dono, la prendo come una cosa che mi fa bene. Allora la sfida che fa giungere l'ora di Dio, l'ora di Gesù è accorgermi che nella giornata di oggi anche i contrattempi possono, se io li accolgo come un dono, possono cambiare totalmente il mio atteggiamento. Non cambia la giornata, non cambiano i contrattempi, il tempo rimane piovoso o caldo a seconda del clima e le ore sono quelle che sono e il tempo mi manca sempre, ma vivo in un tempo che è un dono, vivo nell'ora di Gesù perché accolgo questo tempo come un dono. Chiediamo al Signore oggi di accorgerci della sua presenza affettuosa nel nostro tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.